Bentornati su Recensioni per Scegliere Questo video sarà una semplice guida per andare a utilizzare le funzioni di base del nostro iPhone Alcuni di voi magari quando vanno ad acquistare un telefono vorrebbero trovare ancora dentro un caro e vecchio libretto di istruzioni Molti non lo leggono assolutamente, ma per molti è sicuramente l'unico modo per andare a imparare al meglio l'utilizzo di un telefono In questo video cercherò di fare io da libretto di istruzioni per il vostro iPhone e cercherò di spiegarvi le funzioni di base di questo telefono Per andare a imparare a utilizzare al meglio un telefono se non l'avete mai fatto Prima di iniziare insieme la scoperta del nostro iPhone vi chiedo come al solito di mettere un mi piace sotto a questo video per supportarmi e farmi crescere col canale Per voi è gratuito, per me è molto importante per riuscire a portare sempre nuovi contenuti e nuovi video Iscrivetevi inoltre cliccando sulla campanella qua sotto per ricevere notifiche a tutti i video che andiamo a pubblicare ogni giorno su Recensioni per Scegliere E qua sotto in descrizione, oltre al link per acquistare ad esempio questo iPhone ricondizionato Trovate anche il link al mio canale Telegram dove vado a pubblicare offerte e buoni sconto per acquistare online Ma ora passiamo subito a vedere come funziona il nostro iPhone e andiamo a conoscerlo in modo approfondito La prima cosa che andiamo a vedere del nostro telefono è ovviamente l'aspetto esteriore Come vediamo questo è un iPhone 8 Nelle versioni dal 10 in avanti non è più presente il tasto fisico quindi sarà solamente schermo Mentre invece nelle versioni precedenti all'iPhone 10 è presente sempre un tasto fisico nella parte bassa Se invece andiamo a vedere il lato del telefono come vediamo abbiamo dei tasti per andare ad aumentare o diminuire il volume del telefono Potremo farlo sia adesso che abbiamo la nostra barra che ci fa vedere l'aumento del volume O potremo farlo anche durante una chiamata Quindi ad esempio se quando ci chiamano non sentiamo abbastanza potremo andare ad aumentare il volume schiacciando il tasto in alto Per quanto riguarda invece questo tastino che vediamo nella parte superiore ci permetterà di andarlo ad abbassare e di andare a rendere silenzioso E quindi con la vibrazione se attivata il nostro telefono Quindi potremo andarlo ad abbassare e automaticamente ci dirà che è silenzioso O potremo andarlo ad alzare per andare a togliere il silenzioso e quindi andare a sentire la suoneria Nella parte alta del telefono abbiamo la fotocamera frontale e il nostro altoparlante Mentre invece passando sull'altro lato abbiamo un tasto funzione posto sulla destra Che ci permetterà ad esempio in questo caso di andare a mettere in stand by il nostro telefono In modo tale che non possiamo accidentalmente schiacciare dei tasti E volendo andandolo nuovamente a premere andrà a riaccendere temporaneamente il telefono Per andare ad aprire la scheda sim utilizzeremo questo accessorio presente all'interno della confezione E semplicemente andando a inserire l'accessorio all'interno del foro E premendo leggermente come vediamo fuoriuscirà leggermente lo slot per andare a inserire la scheda Qui andremo a inserire la nostra sim e poi inserendolo a testa in giù Andremo a reinserirla all'interno del nostro telefono In questo modo avremo a disposizione il telefono e potremo iniziare a utilizzarlo Per quanto riguarda invece la parte posteriore del nostro iPhone abbiamo la fotocamera E una luce a led che ci permetterà di essere utilizzata sia come flash quando andiamo a fare delle foto magari in notturna Sia come torcia che potremo andare ad attivare tirando dal basso verso l'alto Abbiamo qui la nostra torcia e potremo quindi andare ad accenderla Come vediamo sarà possibile andare a aumentare e diminuire anche la luminosità volendo E in questo modo avremo una luce sempre a disposizione Vediamo le cose di base che dobbiamo conoscere per andare a utilizzare al meglio il nostro iPhone La prima cosa che dobbiamo sapere ovviamente è siccome si tratta di un telefono come effettuare delle chiamate In realtà è molto semplice ci basterà cliccare sulla cornetta Come vediamo nella parte bassa abbiamo diverse icone Abbiamo preferiti dove potremo andare ad aggiungere dei numeri preferiti Recenti dove potremo andare a vedere tutte le chiamate che abbiamo ricevuto o che abbiamo fatto Contatti dove potremo andare a inserire i nostri contatti Potremo andare quindi ad avere una rubrica di tutti i contatti sul nostro telefono E poi abbiamo tastierino Con tastierino potremo andare a digitare direttamente il nostro numero di telefono che vogliamo chiamare E con il tasto verde effettuare la chiamata Quindi se vogliamo effettuare una chiamata Schiaccieremo sulla cornetta Poi se sappiamo il numero possiamo digitarlo O altrimenti andiamo in contatti E andiamo a selezionare il numero all'interno della rubrica Visto che abbiamo la rubrica ancora vuota Vediamo come fare per aggiungere un nuovo contatto Ci basterà premere in alto qua sul più Come vediamo ci andrà a richiedere il nome e il cognome della persona Quindi ad esempio Pippo Cognome Paperopoli E poi scendendo giù potremo andare a fare aggiungi telefono E quindi andiamo ad aggiungere un numero di telefono Quando andiamo a inserire il numero di telefono Volendo all'inizio possiamo anche andare a inserire il più 39 In modo tale che abbiamo il prefisso italiano Sempre aggiunto a tutti i telefoni che andiamo a memorizzare Scendendo nella parte bassa possiamo volendo aggiungere anche altri contatti Quindi in questo caso come vediamo abbiamo aggiunto un numero di telefono E lui va a mettere cellulare Ma volendo possiamo cliccare sulla voce cellulare E selezionare una delle altre possibilità O andare anche ad aggiungere un'etichetta personalizzata Ad esempio negozio In questo modo lui andrà ad associare questo numero di telefono al negozio Se vogliamo poi possiamo aggiungere un altro numero di telefono Ad esempio proprio il cellulare Quindi anche in questo caso andiamo ad aggiungere il più 39 E poi come vediamo scendendo giù all'interno della nostra rubrica di questa persona Potremo aggiungere un indirizzo email Andare a impostare delle suonerie personalizzate O andare a impostare delle suonerie personalizzate Quando riceviamo un messaggio da questa persona Volendo ancora sotto possiamo aggiungere altri dettagli Come l'indirizzo, il suo compleanno, una data magari particolare di un anniversario O altro Che ci permetterà di andare a rendere ancora più completa Anche volendo con una foto La voce in rubrica di questo nostro contatto Una volta che abbiamo terminato Cliccheremo su fine E come vediamo questo è il nostro primo contatto che abbiamo inserito E se andiamo in questo punto in rubrica Vedremo Pippo Paperopoli Che è l'unico contatto che potremo andare a chiamare Come abbiamo detto prima Se vogliamo quindi effettuare una chiamata Direttamente a un contatto che abbiamo in rubrica Ci basterà cliccare sulla cornetta Scegliere contatti Da qui andiamo a selezionare l'utente che vogliamo chiamare E potremo scegliere quale chiamare Quindi chiamare il numero fisso del negozio Il numero di cellulare Clicchiamo semplicemente sul numero E avvia la chiamata Ovviamente in questo caso Siccome si tratta di un esempio di prova Non potranno partire le chiamate Perché non è presente ancora la sim all'interno del telefono Da qui però possiamo come vediamo Effettuare anche altre funzioni Ad esempio se clicchiamo su messaggio Potremo andare a inviare un messaggio Direttamente al cellulare di questa persona Scegliendo su quale numero lo vogliamo inviare Ovviamente dobbiamo sapere Che magari i numeri fissi Non possono ricevere dei messaggi Potremo poi effettuare anche qui La chiamata dal pulsante E ci farà selezionare a che numero Se avessimo inserito un contatto Che corrisponde ad esempio A un account FaceTime Potremo fare anche una videochiamata Con FaceTime E potremo se avessimo inserito L'indirizzo mail Andare anche a inviare una mail Per andare a inserire Ad esempio questo contatto Nei preferiti Andremo semplicemente Sulla voce preferiti Clicchiamo su più Selezioniamo il contatto che vogliamo In questo caso ne abbiamo solo uno E qui potremo decidere Se andare a aggiungere Nei preferiti L'invio di un messaggio A quale numero O la chiamata A quale numero Ad esempio cellulare In questo modo Se noi accediamo poi Alla nostra cornetta Su preferiti Avremo sempre qua La possibilità di far partire Una chiamata Al numero di cellulare Di Pippo Paperopoli Se queste sono le funzioni di base Per andare a effettuare Una chiamata Per andare a inviare Un classico SMS Cliccheremo sulla voce Messaggi Anche qui andremo a crearne Uno nuovo Cliccando in alto a destra Sulla matita Selezioniamo a chi Lo vogliamo inviare Quindi se ci ricordiamo Il nominativo Con cui l'abbiamo memorizzato Nella rubrica Potremo andare a scrivere Ad esempio Pippo E in automatico Lui andrà a farci vedere Tutti i contatti Che fanno riferimento A questo nome Volendo da qua Possiamo andare a inserire Anche un numero di telefono Che non abbiamo in rubrica Ma in questo caso Noi andremo a inviare Il messaggio A una persona Che abbiamo già All'interno della rubrica Come vediamo Da qui Col più Possiamo andare anche a cercare All'interno della rubrica Facendo scorrere Tutti i nostri contatti E scegliamo sempre Su quale numero Vogliamo inviare Il nostro messaggio Cliccando poi Su questa schermata Potremo andare a scrivere Il nostro messaggio E potremo andare A effettuare l'invio Ovviamente In questo momento Il messaggio Non parte Perché siamo Su un telefono di prova Senza sim Ma un'altra funzione Interessante Che possiamo fare Sempre da qua E andare a dettare Il messaggio Infatti come vediamo Di fianco Alla barra spaziatrice Abbiamo questo microfonino Se lo andiamo a cliccare Non andremo a inviare Un messaggio vocale Ma potremo dettare Il messaggio vocale Facciamo Abilita dettatura E vediamo come Nel momento in cui Io sto parlando Il telefono Andrà a riscrivere Sul nostro messaggio Quello che vogliamo dire E poi potremo Effettuare l'invio Schiacciando sulla tastiera Terminiamo quindi L'invio Della dettatura E poi Schiacciando sulla freccia In alto Effettueremo L'invio del messaggio Ritornando poi Sulla schermata Messaggi Ci rimarranno Tutti i messaggi Che abbiamo inviato E quindi Ci rimarrà Una sorta di storico Della nostra comunicazione Trascinandoli Da destra Verso sinistra Potremo andare a vedere A che ora Avevamo fatto l'invio In caso di non invio Come in questo caso Cliccando sul punto esclamativo Potremo effettuare Una prova di invio Nuovamente Ma nel momento In cui andiamo Ad acquistare Un telefono Di questo tipo Sicuramente Vorremmo aggiungere Altre applicazioni Per farlo E' molto semplice Cliccando su App Store Sarà necessario Ovviamente Avere un account Apple ID Questo l'ho spiegato Già nel video Di configurazione Di questo telefono Che vi lascio Qua sopra Nelle schede Ma ipotizzando Di avere già Un Apple ID E quindi Un telefono configurato Potremo andare Appunto Accedendo a App Store Sulla lente Cerca Andare a ricercare Le applicazioni Che vogliamo installare Ad esempio Una delle prime Applicazioni Che andremo sicuramente A installare E' Whatsapp Quindi andiamo A scrivere Whatsapp E andiamo A individuare Quella con l'icona Corretta Quindi questa E clicchiamo Su ottieni In questo momento Ci andrà a richiedere La conferma Di installazione Dell'applicazione E andrà a richiedere La password Del nostro Apple ID E andrà a installare La nostra applicazione Ci metterà Ovviamente Del tempo In base Alla velocità Della nostra Connessione Quando avrà Terminato Verrà fuori Il pulsante Apri Che ci permetterà Di andare ad aprire E configurare La nostra applicazione Un'altra funzione Molto utile Quando andiamo A acquistare Uno smartphone Di questo tipo E sicuramente La fotocamera Tramite il telefono Potremo andare A effettuare Sia delle foto Che dei video Nella parte bassa Come vediamo Abbiamo le varie voci Che potremo Semplicemente Cliccare E verranno evidenziate O volendo Scorrendo A destra E a sinistra Con il dito Potremo passare Nelle varie modalità Partiamo proprio Dall'ultima Panoramica Abbiamo la possibilità Ad esempio Di fare Una foto Panoramica Quindi più ampia Che è perfetta Ad esempio Per i paesaggi Quindi per effettuare La foto panoramica Teniamo premuto Ci muoviamo Sul nostro panorama Che vogliamo riprendere Come vediamo La freccia si muove E lasciamo andare Una volta Che abbiamo lasciato andare La foto verrà Memorizzata Qua in basso Se clicchiamo Vediamo La nostra foto panoramica Come vediamo Nella parte bassa È presente Un cestino Semplicemente Lo clicchiamo E facciamo Elimina foto Per uscire Da questa schermata Potremo premere Il pulsante Sul telefono O volendo La freccia in alto A sinistra Quindi passiamo Alla modalità 1 a 1 Questa modalità 1 a 1 Ci permette Di fare Delle foto quadrate Che sono perfette Ad esempio Da pubblicare Su Instagram Ma la funzione Che sicuramente Utilizzerete maggiormente È la funzione foto Per quanto riguarda Le foto Possiamo farle Sia in formato Verticale Che in formato Orizzontale Andando a girare Il nostro telefono Semplicemente Ci basterà Premere una volta Sul nostro pulsante Per andare ad attivare La funzione Delle foto Come vediamo Nella parte alta Sono presenti Delle funzioni Aggiuntive La prima A sinistra È la possibilità Di andare ad abilitare Il flash In modalità Automatico Andarlo ad abilitare Si O andarlo A disabilitare Sempre Se andiamo A metterlo Si Quando andiamo A effettuare La foto Lui scatterà Sempre il flash Anche se le condizioni Di luce Non lo richiedono Il consiglio È quello di lasciarlo Sempre in automatico In modo tale Da poter scattare La foto E solo Quando sarà necessario Andare ad abilitare Il flash Il secondo logo Che vediamo in alto È la possibilità Di andare ad attivare O meno Le funzioni Live Delle foto Se ad esempio Andiamo a muovere Il nostro oggetto E poi andiamo A fotografarlo Con il live Attivato Quando andiamo A rivedere La foto Vedremo Che avremo La possibilità Di vedere Appunto Il nostro oggetto In movimento Andando Volendo a tirare Su col dito Potremo poi Effettuare Degli effetti Come ad esempio Il loop Che ci permette Quindi di vedere Sempre in movimento Il nostro oggetto Perché andrà A ripetere Di continuo Il movimento Effettuato Potremo andare A effettuare Un movimento Rimbalzo Quindi lui Torna indietro E potremo andare A effettuare L'esposizione lunga In questo modo Vedremo in realtà Non l'oggetto In movimento Ma vedremo I vari movimenti Effettuati Ma un'altra funzione Che possiamo andare a fare Ed è molto utile Della funzione live È cliccando su Modifica E cliccando sempre Sul logo del live Potremo andare a scegliere In che posizione Andare a bloccare La nostra foto Questo ci permetterà Ad esempio Di andare a selezionare Soprattutto su foto Magari di persone Andare a selezionare La foto migliore Ad esempio Magari con persone Con occhi aperti E con occhi chiusi In questo caso Io vado a utilizzare Questa come foto principale Quindi clicco su Usa come foto principale Clicco su fine E questa sarà La mia foto definitiva Ritornando poi Sulla fotocamera Sempre in alto Abbiamo la possibilità Di andare a impostare Un eventuale autoscatto È impostato Di default Su no Lo possiamo impostare Su 3 secondi O impostare Su 10 secondi Mentre invece Per quanto riguarda L'ultima funzione In alto Ci permette di andare A impostare Dei filtri Che ci permetteranno Di andare ad ottenere Dei colori Più o meno Caldi Freddi O modificati In base appunto Al filtro Che andremo ad applicare Quindi potremo appunto Andare a creare Già in automatico La foto Con il filtro applicato E in questo modo Verrà già salvata Con il filtro Quindi non avremo Una foto a colori Come in questo caso Ma col nostro filtro Applicato Per quanto riguarda L'attivazione dei filtri Volendola possiamo attivare Anche velocemente Scorrendo dal basso Verso l'alto E quindi puoi andare A scegliere Il filtro che vogliamo Attivare Per realizzare la foto Passando invece Alla modalità video Come vediamo Si riduce il campo Rispetto alla modalità foto Vi consiglio sempre Di andare a girare Dei video panoramici Di questo tipo In questo modo Potremo andare A schiacciare Una volta Il video partirà In esecuzione E poi potremo andare A muovere il nostro telefono Per andare a effettuare Le nostre riprese Quando abbiamo terminato Possiamo andare A schiacciare Il tasto rosso Per andare a bloccare Ma come vediamo Appare anche Un tasto bianco In basso a destra Che ci permette Volendo di andare A effettuare Delle foto A quello che stiamo Riprendendo Anche mentre effettuiamo Il video Quindi in questo caso Io vado a cliccare Sul tasto bianco E andrò a effettuare Una foto Di questi oggetti Anche se nel frattempo Sta registrando il video Quindi Quando poi andrò A vederli Nella mia libreria Troverò Il mio video Che ho registrato Ma troverò Anche le mie foto Che ho scattato Mentre stavo Registrando il video Passiamo poi Alla modalità Slow motion La vediamo In funzione Sempre andando A muovere Il nostro oggetto Quindi Facciamo partire Andiamo a muovere Il nostro oggetto E poi andiamo A stopparlo Quando abbiamo finito E se andiamo A vedere Il risultato Che abbiamo ottenuto Come vediamo Lui va a rallentare Il movimento Permettendoci quindi Di andare a vedere I particolari Del movimento Effettuato A rallenti Ed è molto comodo Ad esempio Per andare a riprendere Dei gesti sportivi Per andare a riprendere Delle persone in movimento In modo tale Di andare a effettuare Delle riprese Un po' particolari Ovviamente Per quanto riguarda Tutte le riprese Che abbiamo effettuato Si tratta di riprese Video con audio Che viene registrato Direttamente Dai microfoni Presenti Nella parte bassa Passiamo All'ultima Funzione Della videocamera Che è la funzione Timelapse Questo è Il classico effetto Che possiamo andare A realizzare Ad esempio Per un cielo Con le nuvole A scorrimento Basterà premere Sulla funzione Timelapse Tenere il telefono Fermo Su un cavalletto E dopo una registrazione Di alcuni secondi Se abbiamo un cielo Nuvoloso E con un po' di vento Vedremo le nostre nuvole Muoversi Ma in realtà Possiamo utilizzare Il timelapse Anche in movimento Per fare quello Che viene definito Motionlapse Se noi ad esempio Andiamo a farlo partire Ci basterà Ad esempio Muoverci Intorno Al nostro oggetto E quando poi Andiamo a vedere Il nostro video Potremo vedere Ad esempio Un movimento Intorno All'oggetto Che abbiamo fatto E ci permetterà Di effettuare Ad esempio Anche delle riprese Molto carine Quando siamo in viaggio Come vediamo Nella parte bassa Del nostro schermo Abbiamo la possibilità Anche di andare A invertire La fotocamera Fino adesso Abbiamo utilizzato La fotocamera posteriore Che è quella Con maggior qualità Nel telefono Ma abbiamo La possibilità Volendo di andare Ad attivare Anche la fotocamera Frontale Quindi in questo caso Se clicchiamo Sul tastino Presente qua in basso Potremo andare Ad attivare La fotocamera frontale Che andrà In questo caso A riprendere La nostra telecamera Anche qui Possiamo utilizzare Ad esempio Le foto O i video Non potremo invece Andare a utilizzare Slow motion E panoramiche Se poi vogliamo Accedere A tutte le foto Quindi vedere La nostra libreria foto Cliccando su foto Potremo andare A rivedere Tutto quello Che abbiamo scattato Come vediamo Viene catalogata Tutta in anni Mesi Giorni In questo caso Ovviamente abbiamo scattato Tutto lo stesso giorno In automatico Poi il telefono Andrà a creare Dei contenuti In base alle giornate Di riprese E alle giornate In cui sono state Realizzate le foto Sarà possibile Andare a visualizzare Anche degli album In cui andare A suddividere Le foto In diversi modi Ma una funzione Interessante È quella che possiamo Andare a fare Quando andiamo A vedere la foto Cioè andare A mettere Il cuore E ci permette Di andare poi Negli album E a inserire Appunto Determinate foto Nei preferiti In questo modo Se andremo a generare Molte foto E molti video Saranno più semplici Da andare a ritrovare Un'altra funzione Molto importante Che dovete conoscere È come andare A chiudere Tutte le applicazioni Che andiamo ad aprire Infatti cliccando Due volte Sul pulsante Presente in basso Sul telefono Andremo ad aprirle tutte E per andarle a chiudere Ci basterà scorrere Dal basso Verso l'alto In questo modo Avremo il nostro telefono Completamente pulito E tutte le applicazioni Saranno chiuse Questa cosa È opportuno Farla di frequente Perché ci permette Di andare a conservare E far durare anche di più La nostra batteria Per andare a navigare Su internet Potremo utilizzare Safari Che è questa bussola Cliccandolo Potremo andare A accedere appunto A un qualsiasi sito web Potremo scrivere Direttamente qua sopra Quello che vogliamo cercare Ad esempio Libretto Di Istruzioni iPhone Facciamo Cerca E come vediamo Effettua la ricerca Direttamente con Google E potremo poi Andare a vedere Il risultato Che ci interessa In qualsiasi punto Schermata Ci troviamo Se vogliamo Ritornare Sulla nostra schermata Principale Ci basterà Schiacciare Una volta Il tasto centrale Posto sotto E torneremo E torneremo Sempre qua Quindi se abbiamo Un'applicazione Di questo tipo Aperta Schiacciamo Una volta Torniamo qua Se abbiamo Ad esempio L'app Aperta Questa schermata Schiacciamo Una volta E torniamo qua Quindi quando siete In dubbio E non sapete Cosa fare Schiacciate sempre Il tasto Home Per ritornare Alla schermata Principale Quando invece Andate a riporre Il vostro telefono In tasca E' sempre opportuno Andarlo a bloccare Quindi schiacciate Una volta Il tasto Posto sulla parte Destra Per andare Praticamente A metterlo In stand by Per andare Poi a riattivarlo Potremo premere Nuovamente Il tasto Laterale O potremo premere Il solito Tasto centrale In questo caso Io non ho impostato Un codice Di sblocco Quindi il telefono E' sbloccato In modo automatico Ci basterà Premere una volta Il tasto centrale Per andare A accedere Alle varie schermate Nella parte Bassa Del telefono Possiamo inserire Solo 4 icone Almeno per quanto Riguarda questo modello Se vogliamo Quindi ad esempio Inserire la nostra Icona di whatsapp Dovremo andare A spostarla Nella parte bassa Per farlo Ci basterà Andare sull'icona Tenere premuto Fino a quando Le icone Non cominceranno A muoversi In questo modo E da questo momento Possiamo Se schiacciamo Sul meno Andremo a rimuovere Completamente L'applicazione Ad esempio Io vado a rimuovere Questa applicazione Lui mi chiede Se voglio Eliminarlo O rimuoverla Dalla schermata Home Io faccio Elimina Mi chiede Eventualmente La conferma E faccio Elimina In questo modo L'ho completamente Eliminata Se voglio spostarla Invece Io andrò Sull'applicazione Che voglio prendere Tenendo schiacciato La trascino La trascino Dove voglio E posso spostarla Magari In una pagina O in un'altra Avvicinandomi Ai bordi laterali O se ho lo spazio Come in questo caso Potrò andarla A inserire Nella parte bassa E quindi Ce l'avrò Tra le quattro icone Sempre a disposizione Una volta Che ho terminato E quindi Ho spostato Tutte le mie icone Cliccherò Sempre Il pulsante Home Che vi permetterà Di andare A stabilizzare Il tutto E quindi A rendere Tutto definitivo Quindi In questo momento Io avrò sempre La mia voce Whatsapp Qua in basso E se voglio andare A modificarla Potrò Tenere premuto Come sempre Fino a farle muovere E poi potrò Nuovamente Portarla fuori Riportarla dentro O volendo Potrò decidere Di provare Ad aggiungere un'altra Ma come vediamo Non essendoci Spazi a disposizione Non potrò inserirla Se voglio farlo Dovrò Toglierne prima una E poi Andare a inserire Un'altra Ovviamente Sta a voi Scegliere Quali applicazioni Tenere qua Sempre a portata Di mano Personalmente Preferisco Tenere sempre Le chiamate Internet I messaggi E Whatsapp Che sono le quattro cose Che utilizzo di più Sul telefono Nel momento in cui Abbiamo il nostro telefono Diciamo bloccato Potremo andare a scorrere Da destra Verso sinistra Per entrare Velocemente All'interno Della fotocamera Questo ci permetterà Quindi di avere Un accesso Privilegiato E velocizzato Alle foto E ai video Come abbiamo visto Quindi queste sono un po' Le funzioni di base Che dovete conoscere Per utilizzare Il vostro iPhone Almeno all'inizio Fatemi sapere Se può essere Di vostro interesse Un video magari Dedicato ad altre Funzioni del telefono Che vorreste Vedere Spiegate Mettete un mi piace Un non mi piace Sotto a questo video Per farmi sapere Cosa ne pensate Di questi contenuti Iscrivetevi al canale Se non siete ancora iscritti Cliccando sulla campanella Per ricevere notifiche A tutti i video Che andiamo a pubblicare Su Recensione per Scegliere Ogni giorno Per questo video Con il libretto di istruzione Di iPhone E tutto Noi ci vediamo Alla prossima Video Recensione per Scegliere Ciao Da Enrico